Allora, io ho fatto vestire i ragazzi, gli insegnanti, come di solito non si vogliono vestire mai, vero Max? Perché? Perché Aram Music è iniziata con il mio sogno, dieci anni fa, perché quest'anno è il decennale, abbiamo deciso di creare una magia e ci è riuscita piuttosto bene, ma senza gli insegnanti, senza i miei amici, senza i miei colleghi, senza la mia famiglia, questo non sarebbe stato possibile, quindi chiedo agli insegnanti di venire qui accanto a me. Grazie. Fabio, Mai, Franci, chiamo con i nomi che dico io, Giacomo, Maria, Sede, Franci, Daniele. Grazie. 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 Grazie.